bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le notizie delle ultime 24 ore di fortnite le trovate in questa manciata di minuti nel video di oggi parleremo ancora in modo più approfondito dell'intervista rilasciata negli ultimi giorni di settimana scorsa a donald mustard che ha diciamo spoilerato un pochettino di cose che stanno per arrivare tra cui una grande nuova collaborazione che non c'entra con la marvel per fortuna vedremo anche però qualcosa relativo all'evento del galactus visto che me lo chiedete in tanti e molti moltissimi leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta nuovamente del galactus il galactus che ovviamente tra pochissimo dovrebbe cominciare ad entrare nel vivo della storyline di questa season 4 del capitolo 2 di fortnite perché manca un mese alla fine il 30 novembre è la data ufficiale della fine della season non ci sono ritardi non credo che ne arriveranno ma la cosa davvero interessante è ciò che è stato scoperto qualche giorno fa qualche ora fa in realtà per quello che riguarda l'evento che sembrerebbe essere basato sul galactus non è molto ma lo si trova in queste stringhe di codice vi invito direttamente a guardare le parti verdi dove c'è scritto zapper laser blast impact player lighting e sotto ancora creatures ask zapper laser blast impact player lighting sono delle degli effetti che dovrebbero accadere appunto con una spada laser al contatto con i giocatori e sono tutti nella sottocartella degli eventi come vedete ce ne sono altri questa addirittura parla della weapon quindi di un'arma e della generic explosion questo è molto interessante ff generic explosion far quindi potrebbe esserci appunto l'arrivo del galactus sulla mappa contornato da effetti scenici laser esplosioni purtroppo epic games non dice nulla e non ci fa capire nulla riguardante se ci sarà un evento entro la fine season ma qualcosa sta in cantiere quindi incrociamo le dita e speriamo di vedere qualcosa di veramente figo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché invece vi voglio ricordare che non manca tantissimo al termine del fort nightmares quindi il 2 novembre si concluderà questa bella parte di season una delle mie preferite vi invito ad andare a dare un'occhiata al video che ho caricato ieri sulla posizione delle capanne delle streghe per ottenere il backpack in regalo le altre due sfide sono molto semplici 40.000 punti esperienza per ogni sfida e non dimenticatevi di killare mida in modo da ottenere il martellone quindi ragazzi dai mi è piaciuto il fort nightmares del 2020 a voi è piaciuto scrivetemelo qua sotto nei commenti e andiamo avanti a parlare ancora di un si parla del donato ragazzi ve l'avevo già detto sabato scorso è stata fatta una lunga intervista con donald che ha detto tante cose alcune belle alcune che non sono tanto piaciute alla community come quella che ha detto la collaborazione con marvel durerà anni what donald ti voglio bene ma cioè ce le ho ce le ho grandi così a fuori di giocare con con marvel quindi io mi auguro che in realtà una season come questa non si riverifichi perché sarebbe davvero molto pesante mi ha un po stufato magari qualche riferimento ci può stare ma la cosa interessante è che questa è proprio una fotografia presa dalla parte di live e c'è stato un momento questo momento in cui lui ha detto nella fotografia nella mia stanza ho messo degli oggetti che spoilerano spoilereranno spoilerano degli avvenimenti che dovranno accadere su fortnight ovviamente non si può capire bene a meno che uno non abbia proprio delle grandi idee ma una cosa è ovviamente arrivata all'occhio di tutti ed è il pupazzetto che poi vedete zoomato là in grande di g.i. Joe non ha senso che sia in quella stanza ovviamente perché è messo come vedete apposta su quel mobile piccolo briefing chi è g.i. Joe allora g.i. Joe fa parte di una serie di giocattoli usciti negli anni 60 in america che rappresentavano diciamo corpi speciali soldati aviatori insomma tutto quello che riguardasse il bene ok e più avanti poi negli anni si sono evoluti come quello che state vedendo lì dove il guerriero è abbastanza futuristico è bello idea davvero interessante quella di utilizzare un g.i. Joe per farci una collaborazione non mi chiedete assolutamente in che modo abbiamo intenzione di infilarlo dentro la storyline ma tanto ci hanno buttato dentro tanto di quella roba che non dovrebbe essere tanto difficile e quindi molto carina questa cosa prepariamoci forse ad una collaborazione davvero particolare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché prima di tutto volevo parlarvi nuovamente del madcap una skin che è davvero particolare anche questa perché avevamo già scoperto e visto delle nuove animazioni ma sembrerebbe che otterrà un posto molto interessante per quello che riguarda la sua uscita e probabilmente parte della storia ma non di questa season perché non ce la vedo bene. ci sono due file audio che sono stati aggiunti nelle cartelle questo vuol dire che stanno lavorando appunto su madcap e su quello che sarà ve li faccio ve li faccio ascoltare sono dei suoni davvero molto molto curiosi molto molto particolari perché come vedete riprendono nelle scritte samurai qualcosa relativa all'oriente non si sa ovviamente quale siano le scelte che adotterà epigames per l'introduzione della skin madcap anche perché è tantissimo che è stata inserita e insieme alla skin che sarà comunque dotata di due stili uno brillante e uno non brillante arriverà anche il piccone insomma ragazzi staremo a vedere io per oggi direi che mi fermo qua le news ve le ho dette tutte vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like e a me mi trovate alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao